RDE, presa diretta. L'ex presidente di Autostrade Giancarlo Elia Valori lo hanno deciso i giudici della seconda corte d'appello di Roma che hanno inflitto altri due condanne a due anni e sei mesi per Claudio Prati e Danilo Dini, ex consulenti di una società finanziaria legata a Valori. Nel primo processo d'appello, poi annullato dalla Cassazione, gli imputati erano stati tutti assolti. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha respinto le gravi accuse mosse contro di lui dal suo ex consigliere Dominic Cummings sulla gestione della pandemia, affermando di aver fatto tutto il possibile per salvare le vite. Il capo del governo che ha visitato un ospedale nell'Essex ha detto di aver dovuto prendere diverse decisioni incredibilmente difficili durante la crisi sanitaria, sottolineando che in ogni tappa ciò che ci ha mosso è stata la determinazione a proteggere vite. La sessione di udienza di Patrick è prevista per il prossimo martedì 1 giugno e speriamo, come per ogni udienza, che sia l'ultima e quanto fanno sapere su Facebook gli attivisti della campagna Free Patrick, che da oltre un anno chiedono la liberazione dello studente egiziano dell'Università di Bologna, detenuto al Cairo da 15 mesi. Il G7 esige la liberazione immediata del giornalista dissidente bielorusso Roman Protasevich. Esigiamo la liberazione immediata incondizionata di Protasevich a quelli di tutti gli altri giornalisti e prigionieri politici detenuti in Bielorussia, si legge in una nota dei ministri degli esseri del G7 pubblicata dal governo britannico che detiene la presidenza di turno del gruppo. Il colonnello Asimi Goita, capo della giunta militare che ha guidato i colpi di Stato avvenuti in Mali lo scorso agosto e all'inizio di questa settimana, si è dichiarato presidente di transizione del paese, come riporta la BBC. Sì, Goita ha fatto l'annuncio dopo aver privato dei loro poteri il presidente ad Interim, Bach Ndao, e il primo ministro, Mokhtar Oguane, liberate oggi dal suo arresto che era scattato lunedì, giornata in cui era stato comunicato il rimpasto di governo, per cui il colonnello ha lamentato di non essere stato consultato. Il tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional ha condannato a pene che vanno dagli 8 ai 53 anni i tre accusati degli attentati di Barcellona e Cambrils in Tarragona dell'estate 2017, lo riportano i media iberici. Tra le 16 vittime c'erano anche tre italiani. R.D.E. Sport Egan Bernal ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale del 104esimo giro d'Italia di ciclismo, arrivando assieme al gruppo dei Big scortato dai compagni di squadra dopo oltre 20 minuti dal vincitore della diciottesima tappa Alberto Bettiol. Il toscano si è imposto per distacco nella frazione disputata fra Rovereto Trento e Stradella Pavia su una distanza di 231 chilometri. L'azzurra Chiara Cainero ha vinto loro nello skit femminile alle europei 2021 che si stanno solgendo a Ossiek in Croazia. Con 50 centri su 60 piattelli della finale, la friulana ha battuto la russa Zilia Batrishina e conquistato il sesto titolo continentale, l'ultimo di quali risaliva al 2016. La medaglia di bronza è andata alla britannica Amber Hill. Sarà l'arbitro maltese Trustin Farrugia Cain a dirigere l'amichevole Italia San Marino di domani sera alla Sardegna Arena di Cagliari in vista degli europei di calcio. Farrugia Cain sarà coadiuvato dagli assistenti Luke Portelli e Edward Spiteri, mentre Antonio Giuwa sarà il quarto uomo. Il Milan ufficializza l'acquisto di Mike Magnan dal Lille a partire dal 1 luglio 2021. Il portiere ha firmato un contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2026 e vestirà la maglia numero 16, scrive il Milan, in una nota sul proprio sito. José Bordalás, detto Pepe, ex allenatore del Getafe, è il nuovo tecnico del Valencia, lo ha annunciato il club spagnolo con un tweet. RDE, presa diretta RDE, presa diretta